Ciao a tutti, sono Sissi, benvenuti a questa lezione di danza dell'Africa occidentale per mule. Anche oggi balleremo maracadon, una danza del Mali, una danza che si balla in occasioni di festa e di benvenuto. È molto 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 importante respirare rimanendo rilassati, soprattutto quando il ritmo sarà più veloce. Buon divertimento! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.